Questo è Miguel Fons, un bambino di Manacor, guardate, sette anni, guardate, davvero è la promessa nuova di questo piccolo club. Tony Nadal l'ha già visto, Rafa pure, si allena con il figlio più grande di Tony, è davvero una promessa del tennis di Manacor di nuovo incredibile. Non andate via perché questo bambino sarà il nuovo Nadal, Juan Miguel Fons.